Penso che il senso della benedizione che possiamo chiedere su queste corone sia quello di rendere efficace questo ricordo, appunto perché non ci capiti di commettere degli errori che sono stati commessi dalle generazioni che ci hanno preceduto in questo nostro territorio. Oggi è giorno di sabato, quindi è giorno di riposo per gli ebrei e quindi non possono partecipare a questi momenti pubblici e quindi direi un po' anche a nome della comunità ebraica volevo leggere con voi un salmo, il salmo che recita Gesù sulla croce mentre sta morendo, perché ci può dare l'idea di come possono aver pregato e reagito alle difficoltà che incontravano anche tante persone che conoscevano bene queste preghiere. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Noi ricordiamo sempre due giovani che sono per noi il simbolo della deportazione e sono Adriana Revere che aveva 9 anni, arrivò ad Auschwitz il 26 febbraio del 1944, Adriana la madre furono eliminate il giorno stesso dell'arrivo. Un altro giovane che si chiamava Franco Cetrelli di anni ne aveva 14. Al 22 di aprile del 1945 fu fucilato a Mauthausen, questi sono due simboli importanti, ma due simboli che ci ammoniscono, ci ammoniscono contro ogni dittatura, contro ogni suppruso, contro ogni razzismo. Guardate che quello che è successo potrebbe ripetersi, allora dobbiamo non solo ricordare, non solo rivivere, non solo stare vicino a chi ha perso i propri cari, ma cercare ogni giorno di mettere in pratica questa lezione, la lezione del rispetto dell'altro, che siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti, doveri, lo dovremmo fare noi nelle istituzioni per primo, poi leggete giornali e vedete magari degli esempi non molto positivi, ma questo non giustifica il mancato rispetto di chi abbiamo vicino. È nella lezione della storia che poi si impara a non commettere più certi errori e gli errori li commettiamo tutti, ma dovete imparare che non solo la convivenza, ma la comprensione dell'altro deve essere fondante della comunità civile che andrete poi a costruire col vostro lavoro, col vostro impegno. Dobbiamo avere tutti la consapevolezza che quello che è successo almeno una volta nella storia comunque si può ripetere. Ecco, allora l'essere qui oggi significa rinnovare rinnovare il nostro giuramento di cittadini di questa terra e di cittadini di questo Stato democratico che quello che è successo si può verificare, ma non più con noi.